Musica Sono due giorni cosiddetti di Open Day, secondo quella formula che oramai tutte le scuole, le aziende, le agenzie fanno. In realtà non vuole essere solamente una presentazione tutta a lustrini e piccole feste, vuole essere un assaggio, una prova, un contatto con una scuola che non è aperta due giorni, ma è aperta 365 giorni all'anno con un solo scopo, non avere degli Open Day, ma avere degli Open Cuore, Open Cervello, Open Vita, Open Famiglia, Open... Tutto quello che si può fare per aprire all'internazionalità, alla libertà, alla serietà dello studio e all'importanza della missione educativa da un lato e di approfondimento di studio personale dall'altro, da parte di adulti che sono responsabili per i giovani. Una delle caratteristiche, a parte l'internazionalità della formazione che è tipica di questa scuola, è anche quella di seguire i ragazzi nel corso delle superiori, quindi i tre anni di scuola media e i cinque anni, diciamo, o di liceo scientifico o di istituto tecnico economico, per poi, quando finiscono il ciclo di studi, dargli anche un supporto, un orientamento e seguirli ancora dove è possibile nel loro inserimento o in un ulteriore segmento di istruzione e formazione, vedi l'università, oppure in corsi che portino direttamente nel mondo del lavoro. L'istituto tecnico, mentre il liceo è più tradizionale, quindi guarda di più alle facoltà universitarie, anche se oggi è possibile fare l'università con qualunque tipo di scuola superiore di cinque anni, l'istituto tecnico economico, invece, guarda al mondo dell'economia, al mondo del porto, al mondo del marketing, al mondo del trading, quindi vuole portare i ragazzi veramente a bagnarsi completamente del mondo dell'economia, del mondo della quotidianità che ci circonda. Ecco, perciò le materie in questo percorso sono state impostate in maniera dinamica. Faccio un esempio per tutti. Se noi parliamo di scienze, oggi noi dobbiamo parlare di ecosistema, biodiversità, climatologia, ambiente. Se noi parliamo di diritto o di economia, dobbiamo parlare di geopolitica. Quindi l'interdisciplinarietà delle materie è una delle chiavi per leggere il mondo e l'informazione oggi. Vogliamo dire ancora una volta, forse in maniera anche più concreta, chi siamo, che cosa vogliamo offrire alle famiglie che iscrivono i loro figli qui. Speriamo, nel nostro progetto da 2 a 19 anni, vogliamo sostanzialmente rendere l'alunno protagonista e non più spettatore, come tante volte succede, della sua esperienza scolastica. Proprio oggi mi colpiva vedere tanti ex alunni che stanno portando i loro figli. Proprio loro sono la testimonianza che lo Champagnat è una scuola moderna, una scuola che nel tempo e negli anni ha sempre cercato di scoprire le esigenze dell'alunno di oggi. Non è una scuola nostalgica, una scuola che cerca il tempo che fu, i bei tempi, questo, quell'altro. È una scuola che si rinnova ogni momento. Grazie per la visione!